Grazie A to je jako soustavé jedliče? No, když si dělají, jsou jedy typy idomány obrysy. se c'è da contare 10 euro ci si cercherà viene a sabna si sono spettodi incentivazioni sono piccole lo sono tutte le lavorazioni non tenons no. lo sono è sempre più ovimienti allora para vedere ogni Wasola a amicolare laddere nel rischio umn inside do passato affecting le новые pulИ poi confiday e poi si stanno così, non mi spettiamo. No, la sua troppa, non mi spettiamo, ma non mi spettiamo. E... La sua parte anche, non mi spettiamo. Non mi spettiamo, non mi spettiamo. Mi spettiamo, non mi spettiamo. потрiciamo il più e più che ti fanno più più. Tu sei o tutto? Alla di sé te dal questo. Non è vero perché ci si trovi la scuola coltate. Se tu passate te stinativi a te mi diciamo dopo 25 anni dal testo, te sono ora che ti sentite di per ora. A perché? No, adesso lo tolomio. Ok, pocchè, io sono roma, non sono? Non, non sono, non sono. Questo è proprio la domanda. È una domanda. Un'altra domanda, un'altra domanda. Che ho chiamato per me, un'altra domanda. Un'altra domanda. Un'altra domanda, che mi sono ancora tornati e non c'è più di più di questo. Sì, 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 sì. Grazie a tutti.